Mentre partite e movimenti sono impegnati in queste ore a tirare le fila per annunciare i propri candidati alle prossime elezioni regionali, tiene sempre banchi il governatore uscente Rosario Crocetta con la sua ferma e risoluta intenzione di volere alle primarie. Non voglio lo sfacio della sinistra, ha risposto durante un suo passaggio televisivo alla sette e quando è stata avanzata la candidatura di Pietro Grasso ho detto che ero pronta a fare un passo indietro. Ho però il diritto che venga espresso un giudizio politico sul mio operato. Un Crocetta che torna quindi nella sua richiesta di svolgere le primarie per scegliere il candidato alla presenza alla regione. Il governatore ha nuovamente ribadito di avere diritto ad una verifica politica attraverso i meccanismi democratici previsti anche dallo statuto del PD e ha aggiunto che non è detto che questa opportunità gli venga negata. Si tratta in definitiva di una partita, ha sottolineato sempre alla sette, che va vista dentro il PD e con un discorso chiaro e onesto col segretario nazionale il quale ha avuto Niet alle primarie d'Alfano, credo a concluso Crocetta, che qualunque candidato del centrosinistra dovesse vincere le primarie, compreso Micari, vincerebbe poi le elezioni.